La prima della partita, amici sportivi di Radio Roma Futura, l'unico numero 5 che ricedo la linea qui da Via Stefano Vai 0-0 ma c'è il brividi per la Corriere d'Archeo, il Monte Spaccato, subito vicino al gol. Grazie ad Alessandro Bastenelli, abbiamo sentito quanto può essere pericoloso Gambale, l'attaccante del Monte Spaccato, capocannoniere del campione di eccellenza, nonché del girone A con 23 gol davanti a Vittorini a 22. Noi invece diamo la linea a Maglio Vignola. Buona domenica Paolo, buona domenica cari amici radioascoltatori, benvenuti al centro sportivo di Casal del Marmo dove si stanno affrontando per la 24esima giornata del raggruppamento V dell'eccellenza laziale Astrea e Ausonia. I ministeriali vengono a due direttori consecutive contro Città di Paliano e Gaeta che hanno risultato un po' alla strea una classifica più nobile che ha riacceso un piccolo rume di speranza di raggiungere la seconda piazza d'onore che permetterebbe al team di Marco Ferretti di giocarsi poi i playoff nazionali. Di fronte, insieme a Ausonia, non la scopriamo sicuramente stamattina, la formazione di Sasamato prima in classifica di questo raggruppamento B, un po' lo schiacciatassi di questa stagione del girone B che si trova a 8 punti distante dalla seconda. Quindi vuole mantenere il variato scettro di questo leadership, della classifica, una Ausonia che mai come quest'anno è stata costruita per un campionato importante e tutte le aspettative stanno comunque dando soddisfazione all'operato del Presidente Anelli che da due o tre stagioni sta provando con questa squadra di mantenere la categoria dell'eccellenza e di raggiungere i straguardi importanti. Oddio, come quest'anno, una storica Serie D che non si è mai vista dalle parti di Ausonia, un piccolo paese che si trova nella vasta ciociaria a Madonna del Piano che potrebbe veramente regalarsi un sogno, quello di entrare nel primo campionato nazionale. Andiamo all'ottore delle formazioni, cominciamo con la Strea che schiera questa formazione con Spilabotta, Cruciani, Briotti, Mollodo a essere della partita il capitano della Strea però per una contrattura proprio all'ultimo istante ha lasciato Forfè e quindi al suo posto gioca Thomas Amico. Buona volontà, Metroni, Di Benedetto, Di Iorio che è il capitano della Strea, Cipriani e Lorenzo Aglietti, attacco a due punte per mister Marco Perretti, a disposizione di Marco Perretti, sedano in panchia De Santis, Dolce, Monti, Dionisi, Bangarelli, Botti, Maiuri, Giuntoli e proprio Mollo. A disposizione di Satà, Amato, sedano in panchina Rossini, Ranieri, Carracino, Polverino, Famiano, Tuca, Monaco di Monaco che inizialmente è in panchina l'attaccante che proprio all'andata regalò la vittoria della Sonia in rimontata, ricordiamo che all'andata seguì proprio la partita per questa emittente, la Sonia era in svantaggio per 2-0 proprio a Madonna del Piero, poi grazie a un trascinatore come Monaco di Monaco portò l'intera posta in pari in tutti i secondi 45 minuti, Monaco di Monaco segnò due gol proprio nel finale regalando un successo molto molto importante alla formazione ciociana che da lì in avanti non si era mai quasi fermata, solamente un piccolo incidente di percorso a metà di dicembre, 5 pareggi consecutive per la formazione di Amato, poi da lì in avanti tante tante vittorie e questa domenica ci sarà comunque, ci sta affrontando un diretto concorrente per una piazza di amore, ossia la Strea che non vuole comunque sicuramente perdere terreno se vuole rimanere ancorata ancora al treno che potrebbe portarla ai playoff. Il direttore di gare, il signor Ballocchia nella sezione di diretti, l'assistente di fase, il signor Gabarini di Aprilia e Lisino di Ossia, la partita iniziata da 4 minuti, andiamo in cronaca diretta nel periodo non collegato, la prima azione degna di nota è stata proprio per la formazione di casa con un tiro da parte del numero 4 della Strea e del numero 5 della Strea, una conclusione di Cipriani smorzata, pallone abbondantemente a lato, quindi conclusione che non è entrata nello specchio della porta, comunque tentativo interessante per i misteriali proprio per i primi minuti, il gioco è ancora fermo, c'è una rimessa laterale per la Strea quando i minuti sono 8, la partita inizia da 2 minuti in ritardo rispetto agli altri terreni di gioco, rimessa laterale e battuta dalla Strea, dalla scuola dell'Ausonia con buona volontà, riprende lo stesso palo all'Astrea con il numero 9, esattamente Palumbo, Palumbo che si gira bene e serve un avversario, esattamente il numero 10, Aglietti, serve il palo al compagno di squadra, numero 6, buona volontà, ancora l'Astrea si gioca in un fazzoletto, riprende il gioco dell'Ausonia che lo riprende con il numero 7, Petroni che amministra il gioco, servendo un compagno di squadra esattamente di Benedetto, anticipato nel gioco numero 7, si riprenderà con una rimessa laterale per l'Ausonia, siamo nelle battute iniziali, sicuramente una partita importante per entrambe le formazioni, una, l'Ausonia per trovare, come ho detto qualche istante fa, uno storico piazzamento in Serie D, anche se ci sono ancora tante tante partite da giocare per l'Ausonia, da qui al termine della stagione siamo solamente alla 24, teresima giornata, ancora 10 partite importanti, però il margine importante, 8 sono i punti di istanza sulle seconde, proprio la Gaeta scompitta proprio al Riciniello della L'Ausonia qualche settimana fa e riprende adesso in possesso palla la L'Ausonia con il numero 4 esattamente Gargiulo che si fa anticipare da un giocatore, si gioca nella metà campo dell'Astrea, riprende in possesso palla la formazione misteriale, lo amministra un pallone bellissimo con Di Benedetto, Di Benedetto che serve il pallone al numero 9 esattamente Di Iorio, Di Iorio che ricordiamo a fine stagione probabilmente darà Dio al calcio giocato, chissà se poi lo vedremo, si prende su qualche panchia di Iorio che compieva proprio 40 anni il prossimo giugno e ancora in possesso palla con l'Astrea, con il numero 6 esattamente Cipriani, attenzione, il numero 6 il terzino che serve il pallone a Petroni, pallone in mezzo, D'Angelo con un pugno rispinge il pallone fuori dall'aria, quindi per il momento ti studisco la linea allo studio, diamo linea agli altri campi, insieme a Osoni a 0, a 3 a 0, a Casal del Malmo siamo giunti al 10 minuto, linea allo studio. Grazie anche a Maglio Vignola, noi ci spostiamo nel girone A di eccellenza, esattamente all'Ottavio Perangeli dove ci aspetta Alessandro Natali per Real Montero Tondoscalo-Cinzia, 27 punti di stacco tra le due squadre, Cinzia abbiamo detto ultimo in classifica, ancora con la speranza di salvarsi magari tramite i play-out, il Real Montero Tondoscalo che deve rimontare 5 punti al Monte Spaccato. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Paolo, buongiorno agli amici ascoltatori che ci sentono su www.radioromafutura.it rinocchio all'Ottavio Pierangeli di Montero Tondoscalo, 13 minuti e 20 nel corso del primo tempo tra Real Montero Tondoscalo e Cinzia Genziano, 0 a 0 il risultato, la settima di ritorno del girone B di eccellenza, Gione A chiedo scusa, di eccellenza 2019-20 e ci sono state diverse occasioni da rete in questi primi minuti, al secondo un tiro da posizione di filata da parte dei giocatori di casa, ripiato in calcio d'angolo alla sciarra, un minuto dopo il portiere ospite si ripete per una gran conclusione di Lalli, adesso c'è un calcio d'angolo, il terzo in favore della formazione di Centioni, poi al settimo minuto Lupi da palla a Pollitano rispinto da sciarra, la conclusione del numero 4 di casa con la difesa ospite che allontana la minaccia, poi al tredicesimo praticamente un minuto fa una traversa di Pasquale, un gran tiro da parte dell'attaccante di origine rumena con la palla che coglie la traversa della porta a difesa da sciarra, in questo momento si ripete con la rimessa laterale in favore della Cinzia di Genzano che ricordiamo viene dal conflitto interno per 1-0 contro la polisportiva Monticiminio, esordio sfortunato per il nuovo allenatore Carlo Pascucci e il terzo allenatore dall'inizio della stagione, all'inizio ci fu Antonio Antonucci, poi dopo poche giornate venne sostituito da Aldo Brando Franceschini, questa è la seconda partita in panchina, l'ex difensore di Ascoli tra le altre, di Ascoli Fiorentina, mentre il riammonte è ultimo in classifica con 17 punti, il sodalizio genzanese, mentre il riammonte Rotondo Scalo è secondo con 44 punti in compagnia della Tivoli, a meno 5 dalla capolista Montespaccato Savoia. Andiamo a leggere le informazioni, la Cinzia in campo con Sciarra, Bussone, Paloni, Alongi, Massimiliani di Iori, Menestrina, Gallici e Carnelli, Marchionni, Zambrini, a disposizione di mister Carlo Pascucci ci sono Peri, Ruggero, De Angelis, Capaterra, Corse, Fortuna, Cannillo, Fabiani e Bianchi. La formazione di casa, stia il riammonte Rotondo Scalo che in questo momento sta attaccando e attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione per dal nostro punto di vista, il riammonte Rotondo Scalo scende in campo con Baldinetti, Dorazzi, Vassiatore, Politanor, Benetiralli, Tirossa, Lanzoni, Pascu, Collacchi, Lupi, il tecnico mister David Centioni, porta con sé in panchina per eventuali cambi in corsa, Cisostanti, Fornetti, Braccio, Pastori, Bravido, Tigli, Abbondanza, Baldassio e Palma. L'abito dell'incontro è il signor Wael Abu Ruca della sezione di Roma 2, gli assistenti sono il signor Marco De Bellis della sezione di Fosinone e il signor Gabriele Mari della sezione di Roma 2. In questo momento il gioco è fermo, c'è un giocatore della cinza a terra, si tratta di Massimiani, numero 5 e capitano, 16 minuti e mezzo nel corso del primo tempo che alla Pierangeli è 0-0 il risultato e io restituisco la linea allo studio. Grazie ad Alessandro Natalia, abbiamo detto che avremmo collegato anche il Bortolani con Gabriele Mancini, mi ha mandato ora un messaggio perché stanno continuando i problemi lì al Bortolani, stadio già da qualche anno dichiarato inagibile, spesso la Procisterna ha giocato quest'anno le proprie carinterne a porte chiuse, mi ha detto il nostro Gabriele che non stanno facendo entrare nessuno, neanche i giornalisti, di conseguenza al momento non abbiamo questo campo collegato, proveremo comunque a dare segnalazioni di gol che potrebbero arrivare da quello stadio. Ne sono arrivati 4 invece di gol in questo inizio di domenica 23 febbraio 2020, due arrivano dall'eccellenza Girone B dove a Pietralata Litri è in vantaggio sul Casal Barriera dopo 4 minuti di gioco, poi al comunale di Maranola il Formia perde sempre 1-0 contro il Palestrina, al 10 minuto ha segnato Grizi. Altre due vittorie esterne sono quelle dell'Atletico Bainzizza in casa del Monte San Biagio, all'ottavo minuto ha segnato Notar Pietro e quelle della Polisportiva De Rossi in casa del Sabaudia che al minuto 30 si è portato in vantaggio con un calcio di rigore di Jack, ricordiamo che questa gara è iniziata alle ore 10.30 di conseguenza presumo che al momento sia arrivati al duplice fischio, quindi all'intervallo. Non ci sono arrivate altre segnalazioni per questo io direi di ricominciare il giro dei campi collegati, mettendo in collegamento con noi Alessandro Bastianelli per il suo secondo intervento di giornata da via Stefano Vai di Montespaccato per Montespaccato Cornelto d'Arquignia, gara di girone A di eccellenza che vede appunto la capolista Montespaccato impegnata contro il rosso-blu di D'Arquignia. Eccolo qui, vai Alessandro. Sì, il minuto numero 18 qui a Vestavaromai sempre 0-0 il contesto, una gara divertente in questi frangenti, le squadre stanno provate un po' a scoprire con la Cornetto che ha provato al decimo minuto con una punizione in aria deviata prima da Track e poi da Chinelecchi che ha calciato forte, ma senza trovare lo specchio della porta, perché invece il Montespaccato non trova volte con Diego Gambale, ora squadra offite in avanti, guadagna un palo all'altezza del lato corto, sinistro dell'era di rigore. Il solito Chinelecchi è molto attivo, l'ex calciatore della Lazio e del Recum Monte Rotondo che lì sulla destra fa un'importante in fase di pressione ma anche in fase di possesso. Dicevamo, due occasioni per il Montespaccato entrambi a firma Diego Gambale, la prima aveva raccontata in cronaca, l'altra è avvenuta pochi secondi fa con il numero 9 che è stato lanciato da Andrea De Marco, che non è riuscito a incocciare bene il pallone al volo, è un'esecuzione molto difficile quella che avrebbe dovuto compiere Diego Gambale, il pallone si è spento sul fondo, il tentativo di arronaggio del pallone del numero 9 dato un buon fine. Comunque testimona che Diego Gambale è anche oggi entrato in campo con la consueta crisi e soprattutto con la giusta concentrazione per far male alle difese avversarie, ora i pericoli sono per la squadra di casa con il corneto che batte una posizione dalla destra, il rovinare di rigore c'è un colpo di testa, il pallone che rimane lì, se l'allunzionate e poi c'è stato anche un fallo ai danni di il calciatore del Montespaccato si tratta di Alessio Bernardi, importantissimo il lavoro in fase di copertura, in fase di non postezza del numero 8, in fase di non postezza diventa anche l'azione con delle proiezioni in surplus, degli scatti molto utili nell'economia della squadra di Serazzoni che oltre a vincere giocare con buon calcio a mio avviso merita ampiamente il primo posto nel girone A di eccellenza con 5 punti di vantaggio sul titolo che giocherà oggi pomeriggio contro l'Unipometria al comunale della città a Pometina, il pallone è mandato avanti verso Neuagambal, la sera però finita tranquillamente nelle mani di San Filippo, palla troppo profonda per tirare qualche grotta a cappa, la difesa tarchinese che si sta dimostrando, il sistema di gioco guidata dall'esperto Federici, il giocatore che per motivi fisici va a poter fare una carriera diversa, l'ex Viterbese qui nel giocatore della grande esperienza, il pallone ora ancora dalle parti di Palermo l'appoggiamento Federici.